Ma chi è? Ma chi è che? No! Ma la Divina! Ma ragazzi, ma c'è stasera! Ma c'è stasera per la gioia di tutti! Fai la brava, eh, stasera! Fai la brava! Allora, no, fai la sogna allora! Sei single o tu? Sì, è single! Ecco, è arrivata un'altra signora, bene! Perfetto! Allora, potete scrivere anche al cameriere Massimo, scrivete Massimo, se vi piace! Che te devo dire? Vedi! Oh, sta ancora arrivando gente, è arrivata la signora! Però vedo che scrivete, il meccanismo l'avete capito, dai ragazzi! Bene, bene! Allora, ce n'è un'altra per la 21, che è la nostra Larisa, ecco qua, Larisa! C'è un altro messaggio per te! Stai avendo un successo imperdibile! That's incredible! Perché è tutta bronzata per quello oggi, vedi? Ha preso il sole, allora guarda com'è carina! Brava, ti approfitti perché c'è il sole! Grazie, buon appetito! Vai! Che è arrivato? Ah, l'altra... La quarta! La quarta! Ok! La quarta!